Oggi parleremo di una tesi di investimento condivisa dal maestro, dal più grande investitore della storia, Warren Buffett, e da uno dei migliori hedge fund managers degli ultimi anni. Anzi, probabilmente il migliore. E probabilmente non lo conoscete. Questo è Harris Cooperman. Cooperman gestisce il fondo Praetorian Capital Fund. E questi che vedete a video sono i ritorni che quel hedge fund ha ottenuto dall'Inception, da condannato. Dal 2019 al 2022 ha ottenuto una performance lorda del 919%. Una performance veramente spaventosa. Credo che nessun altro hedge fund abbia fatto meglio di Praetorian, perciò tenete bene a mente questo nome. Cooperman è molto attivo su Twitter e recentemente ha condiviso una sua idea molto interessante e che secondo me ha in comune con Warren Buffett. Per chi vuole essere seguirlo su Twitter si chiama Cuppi. Ha tweetato. Gli ultimi 9 mesi hanno fatto schifo per le commodities. Hanno performato malissimo. Questa nostra offerta a causa degli aumenti dei tassi da parte delle banche centrali e per via della convinzione generale che la domanda di materie prime sarebbe scesa. Cosa amplificata dai lockdown cinesi. Ma con il recente reversal voglio dichiarare la fine del pullback, la fine del calo. Della scorsa estate il mercato delle materie prime ha fatto schifo. Però per quelli che sono sopravvissuti e hanno mediato al ribasso sta per arrivare una nuova epoca d'oro delle materie prime. Secondo Cuppi l'oro tra poco traderà come il bitcoin e il petrolio invece è come una shitcoin. Cuppi ha spiegato diverse volte che per la scelta di un investimento in materie prime bisogna basarsi su domanda offerta né più né meno. Infatti scrive da dove arriverà la futura fornitura di materie prime? Nessuno ha aumentato gli investimenti negli scorsi anni e la domanda continua a crescere. JPOW che sarebbe Jerome Powell vuole distruggere la domanda ma sta fallendo. E secondo Cuppi il mercato sta sniffando una pausa nel rialzo dei tassi. Quando questo succederà le materie prime andranno fuori controllo. Congratulazioni per essere sopravvissuti ha fatto schifo ma adesso inizia il divertimento. Quindi secondo Cuppi nei prossimi anni potrebbe arrivare un super rialzo delle materie prime. Non ho ancora finito adesso vi mostrerò altri post di Cuppi però prima parliamo un attimino di Warren Buffett. Perché secondo me anche Warren Buffett è molto bullish sulle materie prime ma principalmente sul petrolio. Nell'ultimo paio d'anni Berkshire Hathaway ha accumulato un'enorme posizione su Occidental Petroleum. Infatti Berkshire ha comprato il 21,6% della società. Ma non è tutto come vedete Chevron è la terza posizione di Berkshire e vale l'8% del portafoglio. Sembra quindi che anche il maestro Warren Buffett sia piuttosto bullish sul petrolio. Adesso dovevo un attimo parlarvi dello sponsor di questo video poi continuiamo. Freedom24 è un broker che permette di investire in ETF, in azioni e in IPO prima che queste arrivino sul mercato. Ovviamente permette anche di investire in petrolio nel caso in cui voi foste interessati. Questo broker offre un bel numero di ETF per investire in petrolio e altre materie prime. Ovviamente offre anche la possibilità di comprare azioni di molte società che operano in questo settore. Quindi se volete dare un'occhiata a Freedom24 vi lascio il link affiliato nella descrizione sotto a questo video. Dateci anche solo un'occhiata se vi interessa per cercare di capire se potrebbe essere un broker adatto a voi. Poi Cuppi ha fatto un altro post piuttosto interessante sulle materie prime. Guardate il livello dei 2.000 dollari sull'oro. Quando sarà perso? Quando l'oro lo sfonderà? Penso che ogni materia prima premerà sull'acceleratore. Secondo lui una volta che l'oro spaccherà i 2.000, in Italia tutti inizieranno a volerlo comprare. Spereranno in un pullback che non arriverà probabilmente perché tutti continueranno a comprare e anche le altre materie prime andranno fuori di testa. Proprio nel momento in cui J.Pau inizierà a pensare di aver rallentato l'inflazione. Cuppi dice che sta costruendo enormi posizioni in materie prime. Secondo lui questo trend che sta per nascere potrebbe essere addirittura più forte di quello del 2021. Tra l'altro oltre al petrolio, che sappiamo essere una posizione di Petorian Capital, questo fondo sta investendo pesantemente anche sull'uranio, ma di questo vi parlerò in un altro video. Perciò se non volete perdervelo iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perciò al momento due dei migliori investitori del momento di sempre, chiamateli come volete, stanno investendo pesantemente nel petrolio e in altre materie prime. Cuppi sta investendo probabilmente anche in altro, probabilmente anche in oro. Perciò potrebbe essere un trend interessante da considerare. Personalmente non ho investito in niente del genere, né in petrolio né in oro. Oddio, ho una posizione in oro, ma fa parte di una strategia un po' diversa. Non sto puntando su un super rialzo dell'oro, ecco. Perciò chissà, potrebbe valere la pena fare un'analisi di mercato e cercare di capire se potrebbe essere interessante investire in petrolio o magari in qualche società che lo produce. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa tesi di investimento, scrivete un commento e come al solito ricordatevi di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. Magari ricordatevi anche di dare un'occhiata a Freedom24 se vi può interessare. Per questo video è tutto, fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti. Ciao!